Luigi Di Vaia, vice sindaco di Ischia, partiamo da questa idea interessante, quella della pista ciclabile sarebbe la prima ad Ischia. Innanzitutto com'è nata questa idea e soprattutto come pensate di realizzarla? Sì, sarebbe la prima ad Ischia. L'idea è nata grazie al processo che stiamo cercando di perseguire con una politica tesa a ridurre il carico del traffico veicolare sulle nostre strade perché l'abbiamo detto in tutte le sedi, quello del traffico è il problema numero uno oggi a Ischia per un'isola che vive di turismo, il problema va affrontato di petto e per cui in una serie di iniziative che stiamo ponendo in essere, che vanno dalle navette gratuite alla politica delle strisce blu, alle giornate ecologiche, alla razionalizzazione dei parcheggi al centro di Ischia si inserisce de plano il progetto della pista ciclabile. Alcune zone del nostro territorio si prestano a un progetto del genere, infatti è stato approvato e finanziato in concorso con la città metropolitana un progetto che prevede la realizzazione della pista ciclabile su via Antonio Suiuzzo. Il progetto è quello di collegare la zona del porto a quella di Schiaponte per far sì che possano trovare un terreno fertile, mezzi di trasporto alternativi ed ecosostenibili. Credo che la nostra isola verde debba ritrovare, riscoprire la sua vocazione di isola e non di città o di cittadina che insomma è un po' quello che siamo diventati. Quindi una pista ciclabile che un po' colleghi il porto con il borgo storico di Schiaponte quanto è fattibile anche in base a quella che è la morfologia del nostro territorio, delle nostre strade e soprattutto che tempistiche ci sono per vedere anche solo un tratto di questa prima pista ciclabile? Per il primo tratto i tempi sono relativamente brevi. Abbiamo in animo di allargare il territorio, le zone del territorio che saranno interessate dalle piste ciclabili e poi la tecnologia in tal senso ci viene incontro. Adesso le biciclette elettriche presentano le caratteristiche del tutto performanti e quindi affrontano le nostre salite in maniera abbastanza agevole. Quindi da questo punto di vista siamo ottimisti. Dobbiamo fare i conti con quella che è la nostra cultura, la nostra pigrizia e il rapporto che noi abbiamo con le nostre autovetture. Un rapporto spesso morboso, un rapporto che ci porta ad essere eccessivamente legati al concetto della mobilità tradizionale. Detto questo però, ripeto, gradualmente, abituandoci tutti quanti noi ad un processo graduale ma che tenda sempre di più a disincentivare all'utilizzo della macchina, sono certo che riusciremo nel corso del tempo a cambiare le nostre abitudini e soprattutto l'aspetto del nostro territorio.